La Jiu Jitsu Academy è sempre più sul pezzo, un'accademia aquilana che è un'autentica eccellenza che continua a sfornare successi ad ospitare stage di un certo calibro, aumentando sempre di più il numero degli iscritti negli anni. Risultati quotidiani, sacrificio, duro lavoro, la recente partecipazione mondiale, una struttura vincente, piena di risorse, accademia vivace e piena di energie. La nostra associazione è molto giovane, nasce nel 2012 e nel 2013 diventa anche associazione di judo agonistico. Negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato i nostri iscritti e adesso stiamo avendo risultati sempre più importanti anche a livello nazionale e quindi ci teniamo sempre a tenere alto il profilo tecnico e con atleti di questo calibro ovviamente per noi sono molto preziosi. Diciamo che negli ultimi tempi, come diceva il direttore tecnico, abbiamo cercato di differenziare tutto il substrato umano presente nell'associazione quindi abbiamo cercato di creare una squadra master, quindi 35 e oltre, che si è dedicata al circuito Master Italia dove abbiamo comunque riportato diverse medaglie, bronzi, ori, nell'ultimo anno. Addirittura nell'ultimo anno abbiamo partecipato al campionato mondiale che si è tenuto a Olbia. Nell'anno nuovo abbiamo garantito la qualificazione per i campionati europei che si terranno a Glasgow e dove speriamo di partecipare a giugno. Per quanto riguarda invece atleti giovanissimi partecipiamo a trofei di entità nazionale, garantendo sempre un livello altissimo di preparazione e di posizionamento nelle graduatorie. La palestra attiva ospita spesso personaggi esterni alle attività quotidiane per offrire a clienti e nonne esperienze sportive diverse. La collaborazione con la giugizio ormai è cosa salda, ma a breve ci saranno anche altre sorprese all'attiva perché le zebbre impegnate all'Aquila il 14 aprile si alleneranno proprio lì. Ci teniamo perché in qualche modo vogliamo cercare di far sì che l'Aquila in qualche modo possa continuare a vivere. Per cui a noi fa molto piacere. Poi grazie anche ai ragazzi che si interessano in maniera veramente valida. Per cui facciamo il possibile. Poi quello che viene, viene. Il 14 aprile all'Aquila si terrà una partita davvero importante, un incontro internazionale tra la franchigia delle zebbre e i gallesi del rugby. Saremo lieti di onorare le zebbre all'interno della nostra struttura.